guarda che lo so che cosa stai pensando ma come fino all'altro giorno mi hai detto di utilizzare malware bytes anti malware in abbinamento a microsoft defender e adesso vieni a chiedermi se devo cambiarlo ebbene devi sapere solo questo ho una storia per te probabilmente al termine di questa storia capirai bene le mie ragioni ma facciamo un passo indietro come probabilmente sai l'ho detto a qualcuno nei commenti quest'estate ho fatto alcuni corsi di aggiornamento il primo riguardava l'intelligenza artificiale il secondo la gestione di determinati tipi di server in ambiente unix e il terzo era un corso di approfondimento sulla sicurezza ora non so se lo sai ma quando metti insieme tanti informatici tutti quanti nella stessa stanza succede sempre la medesima cosa ovvero tutti quanti questi iniziano a fare a gara diciamo a chi la sa più lunga e chi ha orecchie per intendere in tenda una delle gare che è stata proposta è stata quella per il miglior anti malware in grado di scoprire il maggior numero di malware presenti su una macchina virtuale appositamente infettata ed io ho scommesso tutto quello che avevo su malware bytes anti malware andando sul sicuro e naturalmente mi sbagliavo infatti ho perso ebbene c'è stato un software che ha vinto su tutta la linea rispetto a malware bytes anti malware e presenta anche altri interessanti vantaggi andiamo a vederlo insieme ti senti pronto iniziamo prima di cominciare ritengo doverosa una piccolissima precisazione non andrò a fare in questo video una comparazione diretta tra malware bytes anti malware e questo software perché di fatto non avrebbe senso i risultati si vedono sui grandi numeri come quelli che abbiamo avuto tempo in modo di sperimentare nel corso del nostro corso estivo ma ti presenterò semplicemente questo software con i suoi pro i suoi contro e magari le differenze rispetto a malware bytes anti malware in modo che sia tu ad avere la possibilità di scegliere cosa sia meglio per te nel mio caso ti premetto che sulle mie macchine ho iniziato a sostituire malware bytes con questo software e che fino ad ora l'ho fatto con soddisfazione ma non solo ho iniziato a sostituirlo anche sui computer dei clienti ed ora andiamo a provarlo per procurarci questo software non dovremo fare quasi nulla di nuovo quindi andiamo ad aprire il nostro browser preferito quale che sia google chrome o microsoft edge come in questo caso e nel motore di ricerca andremo a digitare gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e il risultato che ci interesserà sarà il primo quello relativo come vedi al dominio gentiluomodigitale.it facciamo clic per aprire il sito e non appena si sarà aperto quello che dovremo fare sarà andare sulla pagina downloads qui nel menu in alto ed una volta aperta la pagina scendere un pochino più in basso fino ad individuare la voce stuper anti spyware che è il nome del programma che ci interessa siccome qualcuno me l'ha chiesto lo spiego a volte i download hanno un aspetto diverso semplicemente perché quando non è presente questo pulsante azzurro ma è presente il pulsante bianco significa che andiamo a prelevare il file direttamente dal sito del produttore come in questo caso quindi facciamo clic sul pulsante file download sotto la scritta super anti spyware vedremo che verremo reindirizzati direttamente sul sito del produttore e il download del nostro file partirà automaticamente il file grosso circa 200 mega quindi ci impiegherà esattamente il tempo di una tazza di caffè per essere scaricato cosa che vado immediatamente a procurarmi ed ecco fatto stavolta mi sono ricordato anche il tovagliolino tutto quello che dobbiamo fare a questo punto è cliccare sul pulsante apri file per lanciare l'installazione del nostro super anti spyware a questo punto ci verrà richiesto di confermare che questo software possa apportare modifiche al dispositivo cosa che faremo cliccando sul pulsante sì nel frattempo potremo chiudere la finestra del nostro browser che non ci serve più e cliccare per la prima di tante volte sul pulsante next lasciamo tutto quanto come si trova in questa schermata e accettiamo i termini di licenza d'uso cliccando sul pulsante i agree e quindi nuovamente su next lasciando che il software venga installato per tutti gli eventuali utenti del nostro computer ancora una volta lasciamo intatto il percorso di destinazione dell'installazione e clicchiamo sul pulsante next e attendiamo semplicemente alcuni secondi che il software venga installato l'installazione è davvero molto rapida come potrai vedere il software è stato installato una icona è stata creata sul nostro desktop ed ora ci viene richiesto di inserire il nostro indirizzo di posta ti preciso che questa è una cosa facoltativa e poi anche non farla esattamente come farò io quindi premi ancora il pulsante next e a questo punto la scelta è rimessa a te la prima voce va sicuramente lasciata selezionata perché serve all'aggiornamento del database del software cosa fondamentale soprattutto nel caso degli antivirus e anti malware invece la seconda voce ci propone di inviare automaticamente dei campioni di alcuni file sospetti individuati sul nostro computer per partecipare e contribuire affinché le nuove minacce vengano identificate il mio suggerimento è di lasciare spuntata questa voce ma anche se dovessi togliere il segno di spunta potrai nuovamente cliccare sul pulsante next per andare avanti abbiamo finalmente terminato quello che dobbiamo fare cliccare sul pulsante finish vedremo che si chiuderà questa finestra e si aprirà una finestra davvero molto importante questa qui ci propone infatti di installare la versione professionale io ti consiglio soprattutto perché vivo a genova e ho imparato il valore del risparmio di partire perlomeno con la versione gratuita le differenze ci sono come vedremo a breve tra la versione gratuita e la versione professionale ma il mio consiglio è di non cliccare quindi sul pulsante di colore rosso e cliccare invece sul pulsante grigio quello dove c'è scritto decline per installare la versione free vedrai che si aprirà la pagina del sito di superanti spyware che possiamo tranquillamente chiudere non ci interessa tenerla aperta e ci troveremo finalmente di fronte alla finestra principale di superanti spyware prima di procedere con una scansione di test andiamo a vedere quelle che sono le differenze rispetto alla versione a pagamento che sono molto simili rispetto a quelle di malware bytes anti malware quindi in questo senso i due programmi si equivalgono in termini di funzionalità perché non è possibile attivare nella versione free la real time protection il che significa che dovremo avviare manualmente le nostre scansioni come con malware bytes anti malware nella versione free lo ripeto che non sarà possibile impostare le scansioni programmate e che infine gli aggiornamenti andranno fatti sempre manualmente per fare gli aggiornamenti manualmente basta cliccare qui dove dice click here to check for updates e verrà effettuato l'aggiornamento del sistema quindi la prima cosa da fare appena apriremo il programma io l'ho appena fatto come puoi vedere dal tooltip che esce in basso a destra sarà quella di cliccare su questo link in modo da aggiornare ogni volta il programma quando vorremmo andare a fare la scansione quello che ti consiglio sarà di impostare le operazioni che vedrai tra un attimo esattamente come ho fatto io quindi facciamo clic su scan this computer è quello che ti consiglio di attivare anche sul tuo computer per avere una scansione più approfondita possibile che è quella che ci ha consentito nell'ambito di quella piccola gara tra informatici di cui ti ho accennato in apertura del video di individuare la maggior quantità di virus possibile battendo nettamente purtroppo mi dispiace dirlo malware bytes anti malware quindi andrà spuntata la voce per la scansione dei programmi non desiderati naturalmente ti consiglio di spuntare la voce che chiude le finestre attive del browser e allo stesso modo quella che consente la cancellazione dei file temporanei di windows che è una funzionalità comunque in più che questo programma offre rispetto a malware bytes anti malware e che in ogni caso ci aiuta tenere un po più pulito il nostro computer dovrai lasciare disabilitato il rescue scan ma potrai attivare lo scan boost nella versione i boost inoltre puoi effettuare io te lo consiglio la scansione dei cookie di tracciamento dei browser ma sono un'altra delle cose che spesso malware bytes anti malware non va a rilevare poi attivare la possibilità di fare la scansione anche all'interno degli archivi compressi per evitare che ci sia nidino dei virus e dei malware ed infine potrai scegliere se scansionare solo gli ultimi file cioè quelli modificati nell'ultimo giorno negli ultimi due giorni cinque giorni sette giorni per avere una scansione più rapida se invece vorrai effettuare una scansione completa potrai disattivare questa voce qui una volta selezionate le voci che ti interessano basterà fare clic su complete scan per avere una scansione naturalmente completa del nostro dispositivo oppure se vai particolarmente di fretta ma vuoi dare un'occhiata alla situazione potrai cliccare su quick scan inoltre c'è un ulteriore punto di favore di questo programma rispetto malware bytes anti malware che è la scansione dei punti critici del sistema facciamo quindi partire la scansione completa io nel frattempo mi finisco il mio caffè attenzione perché prima di avviare la scansione dovrai confermare la chiusura delle finestre del browser quindi occhio che non ci sia niente di non salvato nel browser clicchiamo su sì e facciamo partire la nostra scansione a fra poco ok la scansione è terminata ed è durata 4 minuti e 17 di tempo umano possiamo cliccare sul pulsante continua e fare assieme alcune riflessioni come vedi su una macchina di nuova e recentissima installazione sono stati trovati la bellezza di 10 cookies traccianti i cookies traccianti non sono un qualcosa generalmente di preoccupante a che cosa servono i cookies traccianti ad identificare determinate attività da parte del computer giusto per capirci i cookies sono un qualcosa di indispensabile per tutti quanti i siti i cookies servono ad esempio a capire con che tipo di dispositivo ti stai collegando ad un sito in modo da poter dimensionare opportunamente la schermata che ti viene mostrata insomma i siti hanno bisogno di sapere non solo se tu ti colleghi con un computer che è dotato di un monitor da 17 pollici piuttosto che da 24 ma anche soprattutto se ti colleghi da un tablet o da un telefonino per poter automaticamente ridimensionare tutto quanto quello che ti viene mostrato in maniera ottimale rispetto al tuo dispositivo quindi i cookies non sono niente di particolarmente insidioso in sé questo non toglie che l'eliminazione dei cookies oltre a liberare una quantità davvero infinitesimale quindi trascurabile di spazio ma in ogni caso a impedire al nostro computer di continuare a trasmettere anche quando non è necessario delle informazioni a questi siti quindi per cancellare tutto quanto possiamo fare click sul pulsante continua mentre se non vogliamo che qualcuna di queste voci venga cancellata dobbiamo semplicemente escluderla cliccando sulla x rossa io in questo caso la rimetto a posto clicchiamo quindi sul pulsante continua vediamo che in un tempo brevissimo vengono eliminati tutti quanti gli oggetti che erano stati individuati possiamo cliccare quindi sul pulsante ancora continua e si chiuderà la pagina riportandoci sulla pagina principale di super anti spyware ancora una piccola riflessione come vedi oltre alle varie opzioni di scansione che abbiamo appena esaminato sono presenti anche dei tool di sistema cosa ancora una volta in più rispetto a malware bytes anti malware un'ultima piccola precisazione come puoi vedere qui in basso è comparsa questa finestrella qui se ti dà noia io preferisco che non venga mai mostrata basta cliccare questo pulsante don't show me this again e andare a chiuderla con la x in questo modo la finestra non ci importunerà mai più il che va a tutto credito ancora una volta di questo software che è molto meno rompiscatole rispetto a quanto non faccia malware bytes anti malware che a volte ci sommerge letteralmente di avvisi clicchiamo su dan e chiudiamo il nostro programma e siamo arrivati al termine ti prego di scusarmi se sono stato un po lungo su alcuni passaggi però ci tenevo a farti capire bene quali sono le differenze tra questo software e malware bytes anti malware che rimane comunque un software validissimo ed un più che valido antagonista di superanti spyware naturalmente come ho detto nel corso del video rimetto a te la scelta di quello che sia più idoneo alle tue esigenze ma ti invito comunque se ti è possibile fare anche tu un po di paragone e magari farmi sapere nei commenti quelle che sono state le tue riflessioni in merito e detto questo siccome sono già andato un pochettino lungo rispetto ai miei tempi non mi resta che ringraziarti per aver visto fino a questo punto questo video salutarti e darti appuntamento alla prossima